Buonasera a questa serata di dirette e libri.tv, oggi è 18 gennaio e cominciamo appunto di come di consueto con questa televisione che è la virgola. Questa sarà una serata che abbiamo in buona parte dedicato alle vicende preelettorali del mondo radicale. Sappiamo che siamo in periodo preelettorale, sia per le elezioni politiche, sia per le elezioni regionali in alcune regioni, in particolare nel Lazio. Quando abbiamo pensato di fare questa trasmissione, abbiamo cominciato a prepararla, saremmo riusciti a organizzare un dibattito facendo venire soprattutto i militanti. Però non immaginavamo che poi gli argomenti di discussione sarebbero così aumentati, soprattutto per quanto riguarda anche una certa effervescenza interna, fino ad arrivare che nel mondo radicale si è sviluppato un dibattito sulle ultime decisioni relativamente alle elezioni regionali nel Lazio, in cui praticamente storace, pare che sia disponibile, sia detto disponibile, a ospitali radicali con un apparentamento definito tecnico. Questa cosa ha sviluppato un grande dibattito, noi eravamo in corso già con l'organizzazione di questa trasmissione, cercheremo in uno di questi spazi di diretta di oggi, quello che comincerà alle ore 22, un Libri al Pub con una conversazione a quattro, di sviluppare questo tema e anche altri che riguardano tutta la vicenda un po' per elettorale, fin da quando noi, ricordiamo, sul Libri TV abbiamo avuto la possibilità di, in qualche modo, di trasmettere il piccolo scoop del segretario che ci ha offerto, ovviamente il segretario di radicali italiano e Mario Staterini qualche settimana fa, con cui lui annunciava che si metteva in campo il mondo radicale con il simbolo della rosa nel pugno. Da allora, qualche settimana ad oggi sono successe cose, sbagliate cose, si sono succedute, dibattiti interni, dibattiti anche credo nella dirigenza radicale e di questo appunto parleremo un po' di tutto questo arco di decisioni e anche di azioni, di dichiarazioni da parte appunto dell'esigenza radicale, parleremo in questa trasmissione alle ore 22 più tardi, questo Libri al Pub. Siccome appunto ho pensato che questa sarebbe stata una trasmissione interessante, ho pensato di dedicare in qualche modo che questa virgola diventasse un po' propedeutica a questa trasmissione. In un momento in cui, e lo abbiamo documentato anche questo sul Libri TV, già da martedì se non sbaglio, molti militanti radicali sono in tutta Italia impegnati in una disperata, per quanto riguarda i tempi, raccolta firme per riuscire a presentare a livello politico, a livello nazionale, la lista Amistia, Giustizia e Libertà, l'abbiamo documentato con un video dove c'è Mina Welby e Vittorio Ceradini a Roma, attivissimi con i passanti, lo potete vedere sul nostro sito. E peraltro, proprio invece relativamente all'altra parentesi in qualche modo elettorale, che è quella invece dei regionali nel Lazio, quest'ultima decisione di avvicinamento a Storace, pare che comporti che le firme raccolte per le regionali ad oggi non saranno più buone, ebbene in questo momento di grande attività e fervore nella militanza e della dirigenza radicale, ho pensato di cogliere qui e lì, nel web e non, alcune dichiarazioni proprio relativamente a queste ultime vicende che per quanto riguardino ovviamente le elezioni regionali nel Lazio, è ovvio che insomma hanno anche una ripercussione perlomeno mediatica anche a livello nazionale. Sto parlando appunto di questa disponibilità di Storace o disponibilità dei radicali all'invito di Storace. Adesso vediamo un pochino, rapidamente vorrei scorrere con voi qualche dichiarazione che si può trovare facilmente sul web, partendo appunto proprio dal segretario, il segretario di Radicali Italiani Mario Saterini. Questo è un articolo che si può trovare su Notizie Radicali, credo che sia un articolo che riporte un'intervista. Un brano di questo articolo, una parte, uno stralcio di questo articolo, riporta queste cose che vi voglio leggere. I giornali riportano che tu saresti contrario all'apparentamento con Storace e Staterini risponde, sì è vero, ho dato una valutazione contraria all'accordo, riconosco a Storace di aver fatto una scelta coraggiosa, di averla presentata in maniera non conformista, chiedendo un'alleanza per fargli da opposizione. Una scelta dettata anche dalla convenienza, ma credo anche che non sia strano un atto di gratitudine da chi, come lui, dalla sua esperienza trentennale nel movimento sociale italiano, ha conosciuto e sa cose radicali hanno fatto per rompere l'atteggiamento fascista degli antifascisti. Certo, un atto liberale non basta a fare di Storace un liberale e un democratico. Le ragioni della mia valutazione negativa derivano al netto della difficoltà di far comprendere la complessità della scelta nelle attuali condizioni antidemocratiche con elezioni regionali che inevitabilmente si perderanno nella campagna elettorale nazionale dal fatto che l'apparentamento tecnico significa contribuire, almeno in potenza, alla vittoria di una coalizione che si colloca in continuità con la giunta Polverini e che ha al suo interno il PDL romano e per quanto mi riguarda questa scelta non mi convince. Dissi lo stesso settimana fa rispetto all'eventuale accordo con la coalizione della Buongiorno che aveva l'Udc Laziale, cioè il Vaticano e i cementificatori alle guida. Continua poi l'articolo di Staterini, volevo ricordarvi che quando Staterini parla di continuità fa riferimento, non è detto che tutti lo debbano sapere, che voi che ci ascoltate, al fatto che Storaci in qualche modo è l'unico vicino politicamente all'attuale uscente governatore del Lazio, Polverini, che è stata l'avversaria alle ultime elezioni regionali di Emma Bonino. Passando da Staterini che è il segretario al presidente di Radicali Italiani, Silvio non mi candido, dichiarazione di Silvio Viale, presidente di Radicali Italiani, ho deciso di non candidarmi nelle liste a Ministri della Giustizia e Libertà, continuerò a raccogliere le firme e per questo, anche per garantirne un diritto ai detenuti, domattina sarò alla casa circondariale Lorusso e Cotugno di Torino, insieme ai militanti radicali. Devo purtroppo constatare che le iniziative radicali non sono andate nella direzione che speravo e che non condivido gli sviluppi e le scelte residuali, come è stato sottolineato le liste a Ministri della Giustizia e Libertà, non sono liste radicali, ma promosse da radicali. Ci sono certamente colpe di altri, ma anche molte nostre, per cui per le responsabilità non ci sono automatiche assoluzioni. Questo qua è Silvio Viale, un'esponente importante del mondo radicale. Su questa vicenda penso che sia importante una dichiarazione di Zingaretti riguardo a questo accordo radicali storace. A me sembra un accordo di convenienza, un po' triste, perché in realtà le scelte politiche dovrebbero essere sostenute da valori e coerenze, non dalla convenienza individuale o di gruppo. E' quindi una scelta alla fine di potere che dà vita ancora di più a un'armata branca leone, che a prescindere dall'orientamento politico è tutto l'opposto di quello che in questo momento serve a Lazio per riprendersi. Così il candidato del centro-sinistra ha la presidenza della regione Lazio, Nicola Zingaretti. Ricordiamo che c'è con il PD regionale, ma con il PD in generale, un forte attrito da parte dei radicali che sono parecchio risentiti dal fatto che l'esigenza di cambiamento di tutto quanto i candidati per i nuovi candidati per il Consiglio regionale ha coinvolto, quindi non possono ricandidarsi, i due consiglieri regionali radicali Rocco Berardo e Giuseppe Rosso di Vita, che sono stati praticamente la leva che ha fatto cadere questa giunta facendo emergere tutto quanto quella che è stata una gestione delle finanze decisamente poco oculata, quindi negando così con questa preclusione alla ricandidatura di Berardo e Rosso di Vita negando anche un certo criterio meritocratico. Parliamo proprio di Rosso di Vita, anche lui di Chiara, non lo appoggiamo dentro il Consiglio, faremo opposizione. Non abbiamo deciso di correre appoggiando Storace, abbiamo deciso di accettare l'offerta avanzataci da lui, di un apparentamento tecnico finalizzato a garantire una presenza radicale nel Consiglio regionale che faccia opposizione eventualmente anche a lui. Scandisce le parole il capogruppo dei radicali nel Consiglio del Lazio, Giuseppe Rosso di Vita. Quindi consigliere regionale uscente è uno dei due in qualche modo paradini della legalità all'interno del Consiglio regionale. Da consigliere regionali passiamo a senatori, Marco Perduca, questa è una dichiarazione che troviamo sulla bacheca Facebook, sapete che noi siamo abbastanza attenti al mondo di Internet. Allora, dice Marco Perduca, in giro si leggono commenti offerti come se venissero da articolati intellettuali e fini analisti politici che criticano una possibile risposta positiva dei radicali all'offerta di ospitalità annunciata da Storace in quanto capo della coalizione di centodestra. Ci si dice, tra tante altre cose, che nella rete il popolo degli elettori, beati loro che conoscono addirittura gli elettori radicali, sarebbe ferocemente contrario. Per me Vox Populi, Vox Day è sempre da mettere in relazione col fatto che quella stessa Vox preferì Barabba, pensate un attimo. E quindi poi ce ne sono altre, un altro importante esponente storico radicale, da cui possiamo leggere qualche dichiarazione, ho anche pochissimo tempo che mi è rimasto e ritira praticamente la sua candidatura all'interno delle liste per la regione Lazio. Allora, questo era soltanto per farvi capire un pochino qual è il clima all'interno e all'esterno di Torre Argentina, per quanto riguarda anche la militanza. Per quanto riguarda appunto i propri militanti, li ascolteremo, ce ne avremo quattro e in questa dimissione alle ore 22. Vado a illustrarvi intanto il palinsesto, pronunciandovi che avremo un andamento anche con qualche difficoltà, perché le preparazioni di queste dimissioni sono state spasmodiche fino all'ultimo momento e non ci sono tutte le certezze che generalmente abbiamo. Comunque, alle 20.45 spazio Società Libera. Si parlerà dell'attività di Società Libera, di fisco, libertà individuale, regole e Stato di diritto. L'ospite sarà il direttore di Società Libera, Vincenzo Lita, e condurrà questo spazio Marco Marchese, sempre salvo inconvenienti. Alle 21.15 dovremo avere uno spazio live e questa forse è la cosa un po' più complicata che cercheremo di realizzare. Io, LibriTV, ha girato la presentazione di un libro, il libro di Marco Verdone, Ogni specie di libertà. L'abbiamo girato ieri, Ogni specie moderato il dibattito della presentazione, Giovanna Devetag. Alle 21.45 a tavola con i libri Asini, Oche e Rabbini, di Roberta Anau, Edizioni e O Roma 2011. Questo è il titolo appunto della trasmissione, con sua eda, note di lettura di Giancarlo Calciolari che andrà alle 21.45. Alle 22 appunto i libri al pub. I radicali e la lista di scopo. Se riusciremo a avere tutte le conferme fino all'ultimo momento sono sempre un po' in forze e non certe, Marta Gemma, Angelo Rossi, Marco Marchese e Riccardo Macchioni. Dovamo avere anche Claudia Sterzi, ma un imprevisto dell'ultimo momento ha fatto declinare l'invito e io modererò questo spazio e speriamo che tutto vada bene. 23, niente, probabilmente perché? Perché Claudia Sterzi non sarà presente e quindi noi dovremmo avere leggera euforia, ma non la potremo avere. Quindi vedremo questa trasmissione precedente al libri al pub, se potremo eventualmente allungarci un pochino, altrimenti comunque sia la trasmissione leggera euforia non la avremo questa serata. A questo punto io vi ringrazio, restituisco la linea a Donato Volpicella, ringraziandolo di questa regia per questa giornata e ovviamente per tutte le altre, ricordandovi che LibriTV è un'associazione che si sostiene, che sarebbe credito che voi vi iscriveste, continuate a seguirci questa sera. Grazie, linea alla regia.